Iniziamo ad impostare il clicker con questo cucciolino. Iniziare ad impostarlo a questa età, quindi parliamo di neanche 60 giorni, è molto importante per sviluppare delle capacità cognitive maggiori e aiutarlo nell'apprendimento. Lui è un cane che diventerà potenzialmente un cane d'assistenza, quindi a maggior ragione è importante andare a strutturare il clicker training nella maniera migliore. Prendiamo il clicker e iniziamo a emettere il suono per farlo sentire al cane. Bravo! E lo premio. Il cane è incuriosito dal suono del clicker e ad ogni click andrò ad associare una ricompensa in modo tale che per lui questo suono voglia dire erogazione di cibo. In un futuro, quando sfruttureremo poi dei training più avanzati, il clicker sarà a conferma che il cane ha eseguito l'azione corretta. Questo ci permetterà di andare a creare un imprinting maggiore sulla singola competenza. E ciò che si accadrà unoldaggio Grazie a tutti.